Ok Oggi siamo insieme a Tormitz Aspetta, aspetta vai Ciao a tutti per D4net e benvenuti in questa live insieme a DaleGamer Allora andiamo a fare un po' di coppie Poi in base agli spettatori poi decidiamo cosa fare insomma Tanto l'importante è che si divertono loro Ora vado a vedere se è arrivata la live, perché non lo so Ok è arrivata Lo condivido Almeno qualcuno Sì Va bene Madonna Che lag Io quante FPS c'ho Dove sono No L'ho tolto i FPS Eh L'isola centrale E' famosa Ok Ok Ah il cacchio di lag c'ho C'ho cazzino di gente No No C'ho 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 Così No C'ho c'ho Tipo Oh Va tutto a scatti Allora Il c'ho Ó E' Bu Mi Si A Il È Que A E A che senso una trappola piazzata c'è un motoscafo non prendi la fia e non prendi la fia e non prendi la fia il cacchio di lag a ok non c'è c'è la gente ecco da me vieni vieni ce l'ho qui addosso laserato oh vabbè hanno poca vita se vuoi adesso è stato felice no la trappola la sua casa no no sono tornata alla lobby m condividi un po la live dove si fare Sì sì Non lo so, non lo so, come si fa Eh? Eh perché siamo sulla chiamata Dovrei metterlo in viva voce Ma la metterlo in viva voce Oh ma ci sei? Sì io ci sono Questo è il tuo canale, questo qui La che mi ha mandato Questa è il tuo canale La che mi ha mandato Madonna fischia tutto, che è il tuo canale Ma quell'internet mi ha mandato su whatsapp E' il tuo canale No, ho sbagliato Ho sbagliato Mi aspetta Non ti vedo No, 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 no A me sul telefono mi dice due Sul telefono mi dice due Ora però sulla FLEI mi dice zero e sul telefono mi dice due Vabbè E' mantenuta qua indietro, lo zio Non mi fa la wifi Non mi fa i Ma è copiato il link Ora se lo spavo Oh bravo Se nemmeno la lago? Mmm... Sì dai Spammala live Spammala live non il live ma su whatsapp tipo oh che palle non mi fa la wifi no mi fa usare il telefono ma che è sta cosa vabbè 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 oh mi laga c'è una trappola 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 oh dio stai trovando un sforzo che ho scurato mhm 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 tu 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 mhm 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 ah c'è iphone vabbè vabbè c'è una c'è una macchina a c'è una macchina un donna film anche io esplodono e allora c'è lo specchio che è lo specchio si è chiuso chi è lo specchio c'è uno specchio mamma mia che classico mi ha preso un cecchino ma io penso che questo ora proprio io non c'è nessuno ma la rete mi accaduto il telefono mi era caduto il telefono questo era un problema cioè io non ti dico di che maniera sto mettendo il telefono ce l'ho sulla spalla tipo pappagallo dov'è la safe? vabbè ma non è lontana non c'è nessuno no vabbè ma lei mi chiamo un moduscapo ma lei mi chiamo un moduscapo mi chiamato questo no ma per te quello scusate ok ok perchè allora tu pigliamolo grandi i scudini ok ok oh che lag tu pigliamolo grandi a come mai coppia 1 carlo guarda che bello ti faccio vedere la bellezza di fornit che lagga ogni due secondi no a parte quello che puoi fuori su indio sui sono un cacchio di delfino sono un delfino ciao vabbè ma qui guarda si tuffi come un delfino sei stufi sei stufi ma è veramente non lo so c'è un po' di una vita ma scuola riccardo what? è normale? no, non è normale se lo dico io no, 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 no pensavo che ti pur fai della cascata allora avevo fatto questa cosa almeno si buttavi e morgifi no, 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 NO c'era prima c'era il torneo prima c'era il torneo prima c'era il torneo di Fortnite e PlayStation Ugelmi ogni volta che mi vuoto la cascata controllo che qualcuno non ha fatto questa infamata quindi in questo torneo mi affaccio e c'è l'infamata io ho detto e volevi brutto what no fucking mi sa che sono caduto no se alteravi sulla a me se mi dà lo shield sono un bimbo fortunato non è un'altra scelta ma fornit dc se baggato ok no ma no non penso perché l'ultima volta forse se cadi forse se cadi e basta no ciao scindone maria stella dentro ma si prende il fiume andavo in safe ok vabbè aspettami chi è quello spettatori tt tt oh fucking è quello di un tizio su tt e io se lo prendo ecco 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 ok vai a quel paesino che si chiama culo voler qui il resto oh dammi dammi fai un edit da professionista ah ce la fai dai dai che sei un pro uuu abbiamo il pro player d'italia oh ah godo dai mi stanno sparando no prova a curarti lo stesso se 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 io non avevo materiali il tuo edit faceva schifo perché non potevo passare se 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 mi ora vediamo se 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 no sbagliato vabbè no vabbè vabbè hai messo nella chat il tuo video il mio link? ehm ora lo metto guarda perchè prima non mi faceva nulla copiamo il link c'è lo sciogliere se può giocare? no sta chiedendo di fare il provino ma non mi fa la wifi che palle ma non lo spammo io si spammo se vai però basta che lo spammi una volta o due perchè non lo spammare cinquantamila volte perchè si spammi doppi Brian ci sono un problema è una cosa dove ci lanciamo? papparia no parco posto lontanuccio per favore borgo ehm va bene borgo tu o non mi ero buttato ehm non mi ero buttato non mi ero buttato nico ora sto chiedendo se puoi fare il provino se poi te lo faccio fare perché non posso cioè per me andrebbe anche bene però dobbiamo sentire anche gli altri rete giacchili tutti il mio sei fortissimo madonna tra perso la metà della vita quindi no 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 qualche due film facendo film sta facendo scopo ma si può si può si può si può non si può la pistola blu d'attivino no no come va il fight no 2 spettatori chi sono chi sono questi due si abbiamo abbiamo via aiuto dopo il salire da ora nonostante e che papa io e ora arrivo a secondo 2 4 4 bella cecchina collecchia per questo c'è 4 4 4 4 4 4 4 4 madonna mi sono fatto due chili in due secondi 2 4 4 250 a casa zio la mano buttata a terra tomminiera pressa mi resta mi lui sta restando il compagno super saiyan no no dio aspetta non ti curare non sei nulla ok perfetto ci arrivo a terra ora che lo vedi quel bastardino sotto il tettino certo qua ce l'hanno un po' vieni 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 scusami vediamo se hanno risposto comunque veramente schifo di posto cioè ho trovato due colpi veramente così non lo senti il spammo eh però spama un pochettino non capisco perché ci sono pochi spettatori non è vero non è vero e si si ora ahahah guardiamo io un po no fatto rinforzamento carriera e nico senti il suo coso baggato c'è i zero spettatori io non so cosa fare dirlo anche se vai allora urla bella dai mare un gioccasino dice avvicinare ricopham condividi un po' la live con qualcuno ahahah io ho avuto l'acqua quindi condividi la live ea un certo punto vengono 5 spettatori ti faccio salutare da una persona importante per resta qui persone importanti vedi qui e ti chiami persone importanti consigli anche posso dire da chi una sorpresa gg attento alle granate c'è l'isis addosso arrivano c'ho scritto è un attentato è un attentato è un attentato la sua madonna aspetta gli altri vado da dietro però non mi spavano no non mi dovete sparare l'individo cosa stai dicendo oh questo è un attentato però dopo la scheda del scappo è un po' esatto questo è il mio obiettivo bello col pompa è un'altra fai fai c'è la merita sta fossa no no tu 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 anche però un attimo devo cercare cure pochino spanto non c'è il tempo paolo bai 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 si lo sta portando un tattico ho la persona importante scappata via 3 2 1 3 3 3 3 4 l'assalto non c'è no c'è uno ma ecco guarda esto 2 si si sa tentato solo tra gli aldoni testo madonna messi un minasso scarsi messo un attentato io ve lo dico coschifo nonna quante parole vuoi dire però vorrei dire però non posso dire ma te la tiro io una granata nel culo no a questo non ha tentato questo era l'isis e che arrivava con le granate ma no non guarda nico un minuto si c'è ancora il live se non ti posso vedere ciò che e ancora non mi risponde no ora mi dice che c'è uno spettacolo perchè mi sento cos'era e che faccio ok ok nico il condiviso ok 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 questa è la salute ok ok dacico firo il tutto lavoro ok ok dacico ok 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 ogni canzone che ti viene in mente poi si dà il copyright 4 non hai condiviso come ti permetti devo condividere se non chiamo la persona importante ok un cane un cane nico chi muto si dice un'altra parolazza anche se lo si scrive così però va bene ha scritto facco con ha scritto fuc no si scrive no si scrive no si scrive no si scrive no no si scrive fauc fauc si scrive no e lui ha scritto fuc no no si scrive fuk no fuc e la e la dove la lasci no 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 guardiamo su google traduttore no 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 tanto noi l'inglese lo sappiamo bene siamo dei linguistici ho scritto schifo hai ragionato ma tommy noi non sappiamo l'inglese però nicolas non sa l'italiano nicolas non sa l'italiano ma fa l'inglese nicolas non sa l'italiano ma fa l'inglese ammazzatelo 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 è un bimbo bravo oh oh provato? no no ne robè Dio no 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 cosa volevi piccolarmi brutto niga no 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 sì perché pensavo ero fk me l'hai ammazzato? no 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 è vero ha ragione sì no 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 spati 4 doppio muro cosa mi significa il doppio muro oddio ci sono gli scudini 4 4 4 mi ha aggiunto a toni in faccia e perchè non è santissimo io voglio in live ciao anche se vai live allora a questo punto vieni in lobby con noi si farà live insieme aspetta e finiamo sta partita broderino oh my god questo è stato tipo credo con tre anni avrei 10.000 iscritti 100 mila oh my god sì oh my god ma lo sai che è successo una volta ero in live no? tranquillissimo mi sembra ero a giocare con giulio ehm e insomma mi ritrovo lo sai chi c'era in chat no la vittoria no te lo giuro un oro te lo giuro un oro ha tipo fatto ciao io sono rimasto tipo what the fuck c'è ok g ii c'è c'è un c'è un c'è un s c'è un c'è d'u l'uomo o o e lo uccisi io o e va bene tanto io sono scar leggendario ora niente niente è stato dai non ti enti no come la qualità della connessione internet nel momento isufficiente neanche a te la cosa è che non ho scopo rio preso cacchio manca ok ok ma si poi se vai a lucario ci durante persona dove è andato chi aveva questo guardalo lui non sei sono un bimbo forte siamo 31 persone ancora no io ho 4 kg certo che c'è un cuore cosa pensi vabbè ho ancora tempo per fare 9 kg ho un pericolo c'è un pericolo un pericolo potente quale fericolo potente che non mi ha scorreggito per uscire la potenza del pericolo c'è un pericolo dopo ci fa il chatting a mezzanotte e si si sta in video chiamata mi ti va a carriere si si ciao ciao se vi conosci finisce la live si è sciatta e eh ti è bello guarda io ce l'ho diciamo spero bene via io ho tre trabole ma sto un attimo anzi no lo faccio dopo scuola vieni ti fingo una drappola io ho già due drappole quindi in dove facciamo un cittadino la drappola prendi anche la shield tu occupa di un altro shieldone prendi i shieldoni te vai tu prendi i shieldoni e i shieldini ok ok ma lOR a att cosa? cosa fanno? nulla stanno giù non so cosa stanno facendo oh c'è gente ce lo fai te? ma che è ok come vuoi oh mi lagga mi stava laggando come me li sono fatti questi questi guardami dormi vai dormi mi 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 è giocare in singolo sono non lo so tipo di prende l'ansia non riesco a giocare questo perchè tifo e. ci stanno cerchino ti hanno cerchino a manca o fa king un altro attentato e questo se la gioca bene cercare di andare in sito che non uccidi miei compagni capito non ancora non ho fatto ancora non hanno capito che c'è nella partita ancora non ho capito sta arrivando il compagno c cazzo da inquinti punti un po' vabbè ora muore perchè godo con un riccio c c c c ma torniamo il lobby un secondo c 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 o c c c una pulpi in concorso spetta soffertando nico però sto aspettando nico un attimo se viene spero entro un attimo nel suo gruppo nico nico bella invito anche tommy bene ma sto a tutti il casino perché perchè ma come vi ho stato online assente cosa ma lo stato online lo levi assente non mi fa unire no guarda io sono nella sua lobby no ok si lo so ma quando i team no vieni qui tommy ok 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 se vuoi quittare decidi se se vuoi quittare o no 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 come è stato il torneo ma non è difficilissimo perchè ma c'erano dei pro player assurdi c'è io ho fatto un punto in quel torneo di si fa creativo si fa creativa no 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 ma facciamo scud no no chi ha incontrato di bello nel torneo nessuno nessuno di famoso ma pensa penso che va in base alla carriera giocatore no nulla sto parlando con nico no 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 eh ma non c'è nessuno qui vabbè ma mi senti vero? si raga alessandro vero le gamer si è innamorato la 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 ti ho tappato l'audio ti ho tappato l'audio volevi 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 tanto davvero come l'hai sentito? si ma piano o forte le senti? forte no comunque no non è vero no è vero no è vero sì 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 vai via vai ma vaici tu dai cani porci andiamo qua ho ok vedo te che cani porci d le ok va ok ok sia così si fa è tutto il live si fa dall'ediziana vai 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 via vai se ti caravano i cammelli e il caldo manco ma lei non sa neanche in che mondo è ok no madonna il caldo show no no sei il giudizio sotto dai va bravo ale così si fa con questo però me lo lascio perché sì ma che ma che vediamo quel che trovo di bello un pompa dell'onno eh io non c'ho nessuna cosa non c'è sotto dai mi è sciuppatolo ma stai che non gioco più no ora non passi perchè mi è rotto questo me lo prendo io mi spiace ma il cecchino non me lo puoi trovare eh c'è un tipo di ma ce l'ha con me quello tommy sei fortissimo tommy sei fortissimo davvero oh un bello lo scar grazie pommy che uccide due tizie che stanno arrivando ora è un pro qualcuno di voi ha lo spero bene come l'ha fatto a laserare questi coschifo si ale per curarti mi hanno ucciso vieni qui a resto mio ragionata di sapere dimmi quando vengono noto l'uomo è fortissimo non puoi morire faccio me una macchina no dai no no questo era un un cacchio di attentato no eh io ho zero vabbè io direi io stacco la live bella